Il 22 luglio del 1980 nasce a Monterotondo alle porte di Roma Marco Marchionni. Tre parentesi nazionali e distanti nel tempo l'una dall'altra per questo giocatore nato come seconda punta e gradualmente trasformatosi fino a divenire centrocampista centrale. Frastagliata la sua carriera tra Empoli, Piacenza, Juventus, Fiorentina e tre volte Parma. Frastagliata, si diceva, la sua esperienza azzurra. Dopo un bienio intero nell'Under 21 di Gentile tra il 2000 e il 2002, il primo a chiamarlo nella selezione maggiore è Giovanni Trapattoni, che lo fa esordire il 12 novembre 2003, titolare nell'amichevole Persa 3-1 a Varsavia contro la Polonia. Quattro giorni dopo gioco ancora contro la Romania, poi il suo rapporto con la nazionale si interrompe fino al 2006, quando è Lippia a convocarlo per le due amichevoli a ridosso del mondiale tedesco, che però non vedrà Marchionni inserito nella lista dei 23. È ancora Lippia a prenderlo in considerazione nel suo secondo ciclo azzurro nel 2009, altre due apparizioni per Marchionni, le ultime delle sue sei presenze in nazionale. Grazie a tutti!